Regione Lombardia è partita nel 2022 con un progetto pilota per lo screening di popolazione generale. Abbiamo sfruttato in quel caso uno screening opportunistico proposto ai pazienti che aspettavano di fare la vaccinazione Covid. Lo screening è stato eseguibile, quindi si è proceduto a lavorare con lo screening finanziato dai fondi ministeriali. Ad oggi siamo riusciti a testare il 10% della popolazione avente diritto con un 20% di adesione allo screening identificando un 1 per 1000 di infezioni attivi, tutti i soggetti che non sapevano di avere l'infezione e che sono stati efficacemente agganciati ai centri per le terapie. Grazie.